Il combattimento va a incominciare! La conta da battere 25 ereditori in 3 minuti! Fido contro i topi! Gli arbitri sono soddisfatti 50! Sì! Lasciateli andare! Dove vai ragazzo? Devo pagare il tributo a Bill. Ah davvero? Dallo pure a me, glielo doi. No, grazie, glielo darò di persona. Andiamo. Che preferisci tenerti, la grana o i denti, bello? John! Benvenuto. Da parte mia e dei ragazzi, signore. È amico tuo? Da dove viene? Non è di qua, signore. Tu! Fermo così, basta. No, 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 no. Il tuo amico non sa guardarmi negli occhi, non è certo una mirevole caratteristica. Nessuno vi guarda negli occhi, Bill, non quando giocate a carte. Questo è Wist, è un gioco da gentiluomini, fa una puntata da gentiluomo. Sto puntando forte, Bill. Per favore, non fare tutto questo chiasso, Harvey. Uno che rischia di bruciare per il bottino mi piace. Come te la cavi sul fiume? Avvicinati. Su, John, mica ti morto, avvicinati. C'è una barca portoghese bloccata in porto, è in quarantena da tre settimane. Mettici mano prima che i ragazzi dell'alba la spoglino e magari poi io e te ne parliamo. Come è fatto, signore? Bravo, figliolo. E tu, come diavolo ti chiami? Com'è che ti chiami? Amsterdam, signore. Amsterdam? E io sono New York. Non ti presentare mai più qui a mani vuote, intesi? Lo devi pagare il piacere della mia compagnia. Portatelo in barca, John. Hai visto mai che ti salva la vita un'altra volta?